Controlli a tappeto ad Arezzo da parte degli uomini della Guardia di Finanza che hanno impiegato anche le unità cinofile del primo nucleo operativo metropolitano di Firenze, in particolare nella zona di Campo di Marte dietro alla stazione ferroviaria. I controlli erano finalizzati soprattutto a contrastare il giro di spaccio e consumo di droga che in questa zona è stato segnalato dalla cittadinanza. Grazie all'aiuto dei due cani antidroga Ebril e Jeremy sono stati sequestrati circa 20 grammi tra ascisce mariguana trovati all'interno di indumenti o zaini delle persone controllate, 10 poi soggetti segnalati alla prefettura di Arezzo per il possesso di modiche quantità di stupefacenti, tra questi anche un minorenne. Una denuncia invece è scattata per un uomo individuato sempre a Campo di Marte che alla vista dei finanzieri si è dato alla fuga. Dopo un brevissimo inseguimento è stato fermato e perquisito addosso aveva due involucri di plastica contenenti mariguana. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza pubblico ufficiale. I controlli si sono poi estesi anche nella zona del mercato cittadino dove i finanzieri hanno sequestrato oltre 1800 articoli contraffatti.